Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Siamo noi. Sono del centrosinistra e il resto del centrosinistra. Ho ottimi rapporti con il governatore di Luca. Ho rotto con il Partito Democratico che pensa di essere autonomo senza considerare gli alleati. Cosa dire? Aiuto. Alaia fa votare per il candidato del centrodestra e dice di essere lui il vero centrosinistra, cioè uno è maschio e sostiene di essere femmina. Vuoi vedere che Alaia è trans e nessuno se ne era accorta? Sì.